Ecco, buonasera, siamo oggi a casa Sankara, ragazzi, per parlare della sanatoria, del permesso di soggiorno. Questi sono gli ultimi ragazzi convocati dopo un anno e mezzo, dopo quasi due anni di sanatoria. Forse è l'occasione di parlare come sta andando e chiarire alcuni punti. Siamo con Hervé, il presidente dell'associazione Casa Sankara, e Ivan De Noca, questi due dirigenti, con Mariana Anche, De Noca, che hanno veramente seguito da un anno con me, del sindacato dei lavoratori africani, da un anno e mezzo questa sanatoria. Quindi è l'occasione di fare il punto, lasciando prima la parola a Hervé e dopo a Ivan. Che ne pensi di questa sanatoria, come l'ho visto? Hervé. Innanzitutto è il luogo anche di ringraziare tutti quelli che hanno fatto la loro parte in questo percorso. Soprattutto dobbiamo sapere che c'è stata una legge, una sanatoria, per regolarizzare le persone, se vuole un'azienda che può prendere la responsabilità di assumerle. Ci sono anche tante persone che ognuno, come dicevo prima, ha cercato di dare un mano a questo ragazzo. Innanzitutto ringrazio anche Ivan, che ha portato avanti questo progetto insieme alla Primo Bio. Casa Sankara, nell'ambito di questo percorso, ha messo a disposizione la struttura per l'accoglienza dei ragazzi. I ragazzi che hanno participato a quella sanatoria sono di Casa Sankara. Alcuni ci hanno raggiunto tramite proprio la sanatoria e vanno a portare la Casa Sankara. Dunque, questo significa semplicemente che insieme riusciamo a fare un sacco di cose. Purtroppo la sanatoria non è andata come noi abbiamo voluto, magari vedere tutti i ragazzi regolarizzati, perché non chiedono soltanto questo, non chiedono altro. Però per farlo non è stato facile. Abbiamo aspettato per tanto tempo per arrivare a questo punto, che domani un gruppo deve andare in prefettura. Saranno accompagnati da Ivan, da Bai, per l'ultima etapa, diciamo, o la penultima etapa per la regolarizzazione. Dunque, quello che posso dire è che Casa Sankara comunque è sempre a disposizione per fare questo di percorso, perché questo è il nostro obiettivo, perché siamo qui. Se dipendeva soltanto di noi, tutti i ragazzi sarebbero regolarizzati. Ma noi abbiamo fatto quello che potevamo fare, mettersi a disposizione e camminare insieme a voi, Ivan, il primo bio, Bai, Giù, anche di Sara, che ha seguito anche tutte le pratiche. Dunque, non si trattava soltanto di presentare una pratica, ma si voleva anche seguire proprio se queste pratiche possono arrivare a destinazione. Dunque, per me, io saluto questo lavoro veramente di gruppo. Credo che avremo anche altre occasioni di poter aiutare le persone che hanno bisogno veramente di inserirsi nel mercato del lavoro e salvaguardare la loro dignità di uomini liberi. Io vi ringrazio tutto e spero che sarà soltanto un passo dentro tanti passi che possiamo fare insieme a noi. Ok, grazie, Erbe, per il tuo intervento. Adesso passiamo la parola a Ivan, che è presidente dell'associazione NUKAP, che ha anche veramente aiutato tanto per la regolarizzazione di questi ragazzi, trovando anche il datore del lavoro, prima BIO, che oggi non è qua rappresentato, ma li ringraziamo anche domani. Vediamo. Allora, Ivan, è stato pesante, lungo. Sì, sì. Ti lasciamo la parola. È stato veramente pesante. Questo è il risultato oggi. È stato un percorso difficile, lunghissimo, faticoso. Oggi siamo arrivati a questo risultato importante, quello della regolarizzazione di otto ragazzi, di questi gruppi di ragazzi. Per noi è una bella soddisfazione, perché non è stato semplice. Noi non siamo contrari alla sanatoria, perché pensiamo che sia giusto dare i documenti a chi non ce l'ha, soprattutto alle persone che vivono in questo paese da decenni senza documenti. Quello su cui noi eravamo perplessi è il metodo, e come è stato fatto, come è stata scritta questa legge. È stata scritta veramente male? Sono stati intoppi burocratici. Tanto che oggi, dopo due anni circa, se siamo arrivati, abbiamo aspettato a lungo, perché giustamente la legge è stata fatta male, con tanti intoppi burocratici. Però noi abbiamo creduto, non abbiamo mai volato, e questo vorrei ribadire ai ragazzi, a tutti i ragazzi che hanno intrapreso questo percorso di sanatoria, della loro regolarizzazione, insieme alle aziende agricole, che non è semplice, perché purtroppo siamo dentro un sistema fatto di burocrazia, di lentezza amministrativa. Qui spesso i ragazzi, dopo aver avviato la pratica, si scoraggiano, e alcuni loro spesso, anzi, danno le colpe a chi cerca di dare la mano volontariamente, gratuitamente, per esempio come noi, come te, come gli altri. Quindi molti ragazzi non sanno, che purtroppo non dipende da noi, che abbiamo, diciamo, messo la faccia per, con buona volontà, cercare di fare l'ottenere dei comiti, ma tutto dipendeva dall'amministrazione, dalle prefetture, piuttosto che dall'ispetturato del lavoro, dalla questura degli organi, i competenti in questa materia. E quindi il problema era lì, tanto che molte aziende si sono anche scoraggiate, hanno volato tutto, anche le pratiche già liate, invece esistendo, forse potevano sperare di ottenere il risultato, l'esito positivo per alcuni ragazzi. Quindi se siamo arrivati a questo punto, è per colpa di questi problemi, di questi problemi democratici. Tanto che i dati ci confermano che lo Stato, piuttosto che le nostre aspettative, non sono state, come dire, portate a compimento, nel senso che su circa mezzo milione di persone irregolari, nel nostro paese, meno di un quarto ha fatto la richiesta, cioè un quarto ha fatto la richiesta della sanatoria, e di queste 200.000, circa, persone che hanno fatto la richiesta di sanatoria, circa, meno del 50%, si parla del 34% delle pratiche che sono state avviate. Quindi è un falimento, è un mezzo falimento questa sanatoria, perché, come ripeto, per l'idea, cioè per come è stata concepita, è da una parte perché non ha reso la vita facile ai datori di lavoro, nemmeno ai lavoratori, e poi dall'altra parte la burocrazia. Però, oggi è un gran giorno, un grande giorno perché i ragazzi hanno creduto, ci abbiamo creduto, non abbiamo mai volato, e se oggi, anche un ragazzo, domani, ottene il permesso di soggiorno, per noi è una bella soddisfazione. siamo stati fortunati, su un gruppo di 15 ragazzi hanno dato 14, quasi a tutti, e quindi per noi è la cosa più importante. Abbiamo aspettato qualche anno in più, però il più importante obiettivo era che loro ottengano finalmente questo documento, che vi consentiranno di uscire dalle invisibilità, di diventare cittadini visibili, con tanta dignità, di poter finalmente poter lavorare con un contratto di lavoro regolare. E quindi tutto questo è stato reso possibile, come ha ricordato Elvè, grazie alla collaborazione di tutti quanti. Quindi vorrei ringraziare, approfittare per ringraziare tutti quelli che hanno collaborato, ma finché ci sia questo esito positivo, in primis l'azienda, la Prima Bio, il suo titolare Giovanni Terrenzio, che hanno avviato in questo percorso, come dicevo, che non si sapeva, anche loro non sapevano a che cosa andava l'incontro con questa sanatoria. Hanno messo la faccia, hanno fatto le cose per bene, perché questo va ricordato. Cioè, qui, nessuno di questi ragazzi hanno pagato, come purtroppo, questa sanatoria, in alcuni casi è diventata business. questa azienda è un'azienda seria che ha assunto es novo, come dice l'articolo della sanatoria. Cioè, sono ragazzi che non avevano precedentemente un, come dire, un contatto con l'azienda. Nel senso che l'immersione al lavoro irregolare non si è fatto con un lavoratore già precedentemente sfruttato, ma sono ragazzi che hanno conosciuto l'azienda nel momento della sanatoria che l'azienda ha voluto regularizzare. Quindi, tutto è stato fatto grazie alla buona volta di questa azienda perché non voleva avere sul suo territorio persone senza documenti, persone visibili. I ragazzi hanno lavorato, hanno avuto dei contratti di lavoro regolare, i contributi sono stati versati, come prevedeva la legge, quindi tutto è stato fatto secondo le norme, secondo le regole. Quindi, questa dimostra la serietà dell'azienda e la regolarità del percorso che è stato fatto. I ragazzi ritorneranno ancora a lavorare, ovviamente, solo lavorano con questa azienda, quindi, non è una questione, un rapporto di lavoro che è stato avviato solo a fine della regolarizzazione, ma le porte sono aperte. se i ragazzi vorranno lavorare, potranno andare a lavorare con la stessa azienda. Oltre all'azienda, quindi ringrazio poi, Bailiuf, che è qui con noi, che ci ha dato una mano gratuitamente, partendo da Milano, venendo qui a Foggia, girando l'Italia per aiutare questi ragazzi, mettendosi la faccia, i giorni, andando a controllare sul sito, se ci sono qualche risultato, qualche informazione rispetto alla sanatura a due anni di attesa che, diciamo, mai avevuto poi di raggiungere. Ringrazio, ovviamente, Casa Sankara, Casa Sankara, che ha fatto tante cose per questi ragazzi in ospitalità, aiuta questi ragazzi dagli sceni per uscire dall'illegalità, dall'assolutamento. Oggi, se questi ragazzi avranno questo documento, è soprattutto grazie a loro che hanno accolto questi ragazzi, dando tutto, servizio, gratuitamente, volontariamente, e individuando anche i ragazzi, per motivi che questi ragazzi non sapevano più come fare per avere i documenti. e grazie a Casa Sankara che li ha individuati rispetto alla loro condizione di vulnerabilità estrema, gli ha permesso di dare un'opportunità per poter oggi uscire da questa invisibilità. Poi ringrazio i miei collaboratori dell'Associazione Metap e Mariana che sta qui oggi nella festa dell'Immacolata ma nonostante ciò ha deciso di essere presente e ovviamente quello che viene prima sono solo le persone ma lo fa a cuore un gran suo processo strippoli di tutti quelli che ho dimenticato mai hanno lavorato su questo percorso. Grazie. Ok, grazie Erwe, grazie Ivan. Come avete detto è solo noi abbiamo solo seguito la pratica. abbiamo avuto la disponibilità dell'azienda che ha assunto questi ragazzi ma abbiamo solo seguito per dire per confermare quello che hai detto non è con noi abbiamo deciso di convocare o di non convocare non dipende di noi dipende la prefettura purtroppo con questi ultimi ragazzi convocati domani c'è stata una birocrazia che è impossibile raccontare lì ma se non c'era questa disponibilità questa collaborazione tra tutti noi forse questi ragazzi rischiavano di perdere il permesso di soggiorno ma come dici tu abbiamo seguito quindi vi ringraziamo tutti ringraziamo anche Mariana oggi è festiva ma è qua abbiamo raccolto tutta la documentazione perché in maniera veramente fiscale perché in prefettura vogliono copia originale due copie e tutto questo le marche di bollo e tutto questo domani andremo in presenza ci sono ancora altri ragazzi di altre aziende non sono non ancora convocati ma non decidiamo noi aspettiamo seguiamo aspettiamo quindi vi ringraziamo tutti ragazzi domani tutto pronto e quando avete il permesso giorno andate lavorare cercato un buon lavoro per sistemare l'azienda prima più dalla disponibilità con Ivan e altri ma pensiamo che fra 4-5 anni sarete ben integrati in Italia questo è l'obiettivo grazie 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 a tutti grazie a tutti